ciao a tutti oggi vedremo la tolettatura del barbone in terrier cliff però nella versione commerciale l'ultimo passaggio è quello del balsamo volumizzante che vado ad applicare su tutto il pelo in questo caso io devo valutare il soggetto che ho sotto mano quindi che significa che devo valutare per scegliere la lunghezza da utilizzare la quantità di pelo mi vado a segnare il punto vita da dove allora vado a sentire dov'è l'ultima costola dove inizia la coscia quindi quello che andrò a rasare è esattamente il pelo che sta tra tra questi due punti è importante che sia inclinata a 45 gradi per non mangiarmi questa rotondità se la tenessi dritta guardate quanto pelle in più andrei a tagliare abbiamo ottenuto una terrier clip commerciale lavorando però con la macchinetta anziché tutto a forbice